Era di Milano, studiava medicina, frequentava il conservatorio, cominciava a scrivere poesie con musica, qualcuna in milanese. Dario Fo lo aiutò a scoprirsi attore e il ragazzo non ci stava più sul piccolo palcoscenico, ci vollero la televisione, il cinema e i grandi teatri. Attualmente infatti è in teatro con il suo Parlare con i limoni, spazia fra il divertimento e la satira a 360 gradi. Gli piace apparire dilettante ma è un professionista completo. Presenta per la prima volta in televisione la canzone Due Gelati dall'album Parlare con i limoni. E' Enzo Iannacci. Buonasera, benvenuto. Venuto a te. Ti ho parlato con questo qua. Tu parli con questo. Io non vorrei parlare di te come cantante, ieri mi hai portato un libro e quindi mi pare giusto usare questo poco tempo che noi abbiamo per fare due parole per questa operazione estremamente importante. Ti ringrazio. Il libro si chiama Testimonianze di ragazzi guariti dalla leucemia. Quindi come medico vorrei che mi spiegassi, è un libro di speranza mi pare di capire. Sì, ci sono vari gruppi, ringrazio Raffaella che mi ha permesso di poterlo dire anche davanti a tutta questa platea, magari in Napoli ma anche nel giorno della mamma, credo che sia importante dirlo. Dire che ci sono dei gruppi di lavoro nel campo della pediatria ematologica che risiedono a Monza dove io collaboro, dal professor Masera, a Bologna dove c'è Paola Lelli, comunque va a Padova, a Genova, a Piacenza e a Pavia, non credo che dovrebbero essere mica dei altri, dove si curano i bambini e leucemici, cioè il bambino pediatrico da 0 a 12 anni. I risultati sono questi, dalle mortalità quasi assoluti di 20 anni fa, adesso si può guarire, ti ho io lo dico, si può guarire. E quindi questo libro contiene testimonianze di bambini? Sì, guariti dalla leucemia, è importante perché danno fiducia, danno speranza e la gente deve sapere che non è la morte, non è la disgrazia, non solo, ma la sopravvivenza va anche del ragazzo ormai guarito, non va presa come una cosa da handicap, arrivano i militari e dicono, ma quello lì è un leucemico, no. No, una volta che si guarisce oggi si può guarire veramente bene. Esatto. Bene, speriamo che si arrivi presto con le vostre ricerche, in quelle di tutto il mondo naturalmente, dal 70 al 100%, torniamo alla musica. Scusa. La vita, dimmi. Visto come mi sono messa. Molto elegante, è raro, perché è un po' che non ci vediamo. È da 54 che non metto la cavata io. Vai da Raffaella, chissà mai che trovi un lavoro un po' più, un po' meno. Il dottor, due gelati e il soia annacci, accomodati pure. Grazie, grazie mille dottore, arrivederci. Ciao Raffaella. Grazie. 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 Grazie.